Ora però da questa settimana anche orologi 2019 e 2020 della casa Garmin con funzionalità beta hanno aggiunto questo track mode che si presenta in maniera davvero interessante. Non so dirvi se questa funzionalità sarebbe piaciuta a Joshua che a Monaco il 14 agosto 2020 è la Diamond League a corsi 5.000 in pista in 12.35 alla stratosferica meta di 2.31 al chilometro. La cosa che probabilmente non saprete è quale dispositivo ha utilizzato durante questa gara. Invece tutti avete visto che poco prima del traguardo ha fermato il suo GPS come se fosse un podista amatore ad una tapasciata bustocca. Ovviamente l'atleta ugandese non aveva affatto bisogno di un GPS potendo sfruttare tre fantastici pacer che l'hanno portato fino ai 2.400 metri alla velocità concordata. A parte le capacità innate di Joshua Cechtegei si stiamo parlando proprio dell'atleta ugandese che l'hanno portato a correre forte dal primo all'ultimo chilometro. Il nuovo primatista mondiale è stato anche aiutato dal famoso Wave Light System che consente di correre in maniera uniforme per tutta la gara assumendo però di averne le capacità di correre a un determinato ritmo. Proprio perché è un fascio di luce si illumina e consente quindi di avere un vantaggio incommensurabile se vi fa piacere saperlo però nei primi anni di carriera dell'atleta ugandese anche lui è saltato in qualche gara per esempio al campionato mondiale di Cross 2017 dove ha consumato tutte le energie proprio all'ultimo giro quando era in testa. Tra l'altro e prometto di non divagare oltre Cechtegei ha utilizzato le nuovissime Dragonfly con l'intuersuola in zoom x chiodate da 125 grammi che qualche vantaggio sicuramente gliel'ha concesso. Finisco la parentesi dicendo che a Monaco nelle gare che vanno dagli 800 ai 5000 metri includendo anche i 3000 siepi 27 atleti hanno utilizzato le Dragonfly, 13 le Nike Victory, 10 altri modelli Nike e solamente 15 atleti scarpe non della casa americana. Un incredibile 77% complice anche la tipologia di gara ma senza nulla a togliere alle altre marche sembra proprio che Nike stia dominando anche in questo campo. E cosa c'entra tutto ciò? La cosa che mi ha sorpreso è che a questa gara di Monaco Ceptegei ha utilizzato il famoso e vecchissimo tra virgolette Forerunner 35, dispositivo che avevamo eloquentemente recensito sul sito The Running Pit nel lontano 2017. Se siete fortunati ad avere Joshua come amico su Strava potrete sicuramente vedere la sua traccia GPS e noterete che la più scadente in assoluto complice sicuramente lo stadio che è abbastanza chiuso ma anche probabilmente la mancata attesa del segnale GPS. Ebbene se il Prode mezzofondista avesse utilizzato un nuovo GPS, in particolar modo il Garmin 745, questo problema non si sarebbe verificato. Tra l'altro se siete interessati a una recensione dettagliata fatemelo sapere nei commenti qua sotto, cercherò ovviamente di farlo con i tempi e i modi dovuti. In effetti il 745 ha attivato con il suo lancio la funzione Track Mode in maniera nativa, ora però da questa settimana anche orologi 2019 e 2020 della casa Garmin con funzionalità beta hanno aggiunto questo Track Mode che si presenta in maniera davvero interessante. Io l'ho voluto provare in pista in tre condizioni, posso dirvi, I'm impressed e comunque se avete questi dispositivi che alleggo qua sopra, penso che valga la pena scaricare la versione beta. La lista dei prodotti Garmin che ha a disposizione la versione beta del Track Run è composta dal 4Runner 945, dal 245 che abbiamo utilizzato nei test, il Phoenix 6 e anche il Mark, che tra l'altro avranno tutte a disposizione anche gli allenamenti personalizzati giornalieri, altra novità della settimana scorsa, tutti tranne il 245. Come ho già detto per farli funzionare serve il firmware beta, nulla di che sono pochi passaggi che forse illustreremo in una guida dettagliata su The Running Pit, ovviamente qui non lo posso fare. Uno dei punti di attenzione di questa versione beta è che tenderà a perdere il collegamento bluetooth con la musica, anche se non ho visto il problema segnalato sui forum internazionali. Si tenga ulteriormente presente che in queste installazioni beta sono state aggiunte nuove funzioni che sono presenti solamente in alcuni orologi, in particolar modo quelle legate allo slip tracking che secondo alcuni sono migliorate significativamente rispetto alle versioni precedenti. Magari nelle prossime settimane vi faremo un test di confronto per capire cosa è migliorato effettivamente. La condizione necessaria per utilizzare il track mode è quella di avere una pista, tra virgolette standard, di 400 metri. No, in effetti non valgono piste irregolari o addirittura più corte come quella di 200 metri che ho testato a Madrid a febbraio appena prima dell'esplosione del Covid. Garmin dice di aver implementato un semplice algoritmo che vi ricordo è un metodo di calcolo per permettere di valutare in maniera contestuale il ritmo corretto anche sulla pista di atletica. E non è un caso che sul manuale di istruzione del 745 la casa americana ci ricorda che la prima cosa da fare è correre sulla pista per un minimo di 4 giri che è di fatto tra l'altro l'app automatico impostato da questa nuova funzione. È importante salvare il riscaldamento per permettere che Garmin abbia quello che si chiama contesto in modo tale che l'allenamento successivo possa essere registrato davvero perfettamente. Infine sappiate che Garmin sta valutando la possibilità di arrottandare il lap manuali per permettere una migliore valutazione dei dati. Chiaramente è impossibile aspettarsi dei numeri perfetti, io sono già contento di quello che ho visto. Non ci sono altre grosse avvertenze prima di iniziare a correre se non quella di indicare in che corsia state correndo. Nella traduzione beta tra l'altro e sorrido è chiamata lane ma è esattamente la stessa cosa. Il mio consiglio è quello di lasciare il lap automatico che come ho già detto è di 1600 metri e eventualmente al passaggio di ogni giro di pista o ogni due giri di pista premere il lap manuale che si posiziona sul pulsante in basso a destra. Tra l'altro e di questo sono veramente contento, finalmente si può attivare anche la modalità ripetute prima invece che la distanza era imprecisa mi sembrava del tutto inutile. Interessante notare che una volta corso troverete delle schermate speciali, la prima quella solita del lap dove però la distanza è misurata in metri. Grazie Garmin se devo correre 10 per 800 metri non mi servirà sapere quanti chilometri sto correndo quindi sapere che sono arrivato al 545esimo metro è davvero un vantaggio competitivo. La seconda schermata ha solo tempo e metri ed è molto efficace secondo me in gara mentre la terza offre il lap a Livigno sapevo che se dovevo correre un giro in 1 minuto e 20 e 1 in 1 minuto e 30 facevo fatica a rientarmi qui invece è sicuramente ben visibile. Nel caso in cui aggiorniate la corsia a un numero superiore a 1 la prossima uscita riceverete tra l'altro l'avviso se tornare alla prima. Pro tip se utilizzate la potenza come strumento di valutazione della vostra corsa sappiate che dovete aggiungere anche una schermata supplementare per la potenza Garmin oppure RunScribe o Stride che vi consentirà quindi di avere tracciato il risultato anche su Garmin Connect alla fine dell'allenamento. Ma alla prova dei fatti direi che questa funzione track funziona davvero benissimo. Anche nella modalità calibrazione il percorso è molto lineare forse qualche problema al primo giro ma poi si dimostra il tracciato davvero molto preciso. Se nei miei corsi di Livigno dicevo che l'errore in pista era tra lo 0,6 e il 3% oggi con questa nuova funzionalità l'errore si riduce a 0,1%. Anche nella seduta di qualità di oggi sono passato ai 10 km e il GPS mi ha registrato 10,01 con una definizione del percorso oltremodo perfetta. Ho voluto pure provare a correre il defaticamento alla lane 6, alla corsia 6 e sono rimasto sorpreso che anche in questo caso la differenza è stata solamente dello 0,3%. Ogni corsia di fatto aggiunge 7,5 metri a giro, su 5 giri il 245 ha quindi registrato 2200 metri contro i 2190 teorici davvero non male. In conclusione secondo me questa funzionalità track run rappresenta la migliore innovazione dell'anno per tutti coloro che corrono due volte in settimana in pista non potete davvero secondo me farne a meno. Un applauso a Garmin e la mia ammirazione incondizionata grazie davvero per tutti noi podisti amatori. Dimenticavo di dirvi che io sono Massi, non mi occupo solo di recensire scarpe ma anche di tecnologia nella corsa al servizio del podista amatore. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale e un servo diverse recensioni tech che secondo me potrebbero davvero interessarvi. E con questo è tutto, fino alla prossima recensione, stay strong! Ciao, alla prossima!